Siamo a Gazzara in comune e la Valbossa in rosa organizza una bella manifestazione soprattutto per voi donne e però soprattutto per gli amanti del motociclismo e quindi ci fa molto piacere vedere anche una bella signora con una moto che fa veramente invidia anche alle macchine. Eh sì, questo è uno spettacolo, è fantastica, Goldwing 1500, è un modello vintage ed è di una comodità incredibile per i viaggi e soprattutto per queste manifestazioni, insomma, è sempre molto ammirata. Ho visto dei ragazzi, dei bambini che hanno voluto fare la foto sulla moto qui, significa che proprio... e poi penso che anche per voi donne quando andate a fare un viaggio, un viaggetto, qualcosina, qualche abbigliamento in più potete metterlo. Ma certo, assolutamente, perché la comodità di poter avere praticamente una poltrona a disposizione e quindi anche i bambini sono sempre molto attirati da questa moto così particolare, completamente diversa dalle altre. Cosa ti spinge a seguire il tuo compagno con la moto o preferiresti magari che di portarti su una Mercedes bella comoda con riscaldamento accesso? Svolto adesso. Guarda, allora, io preferisco la moto e comunque il mio compagno ha un furgone e io adoro, adoro tutti questi mezzi un po' particolari e alternativi, ma questa moto è incredibile, sono contenta che la possega proprio lui e che mi porti in giro sempre tranquillamente. Cosa ti ha spinto oggi, se non sbaglio, arrivati da Castronno, se non sbaglio, a venire in una situazione così, soprattutto per voi donne? Penso che questo viene lusingato. La prevenzione è molto importante, ci tengo tantissimo e vedo che sono in ottima compagnia. Diciamo che essere qui, essere presenti in questa manifestazione e fare questi giri vuol dire proprio unire tutte le donne e rafforzare il legame che c'è tra di noi per darci forza anche, perché purtroppo queste cose accadono, ma se ne può uscire. Se ne esce tranquillamente per esperienza personale ce la si fa, ce la si fa se si è insieme, se si è unite. Quindi benvenga. Ti parli un po' del tuo curriculum da motociclista, so che tu non sei il pilota numero uno, sei dietro, però quante moto il tuo compagno ha cambiato oppure è tanto che c'era questa? Allora il mio compagno ha cambiato tantissime moto perché è un grande appassionato e questo mi fa solo piacere. Ne ho provate un po', questa la Goldwing è quella che preferisco e sono contenta di poter fare dei viaggi o dei giri anche solo la domenica insieme a lui. Io sono la zavorrina, o zavorrona, però mi piace ecco, mi piace perché c'è un senso di libertà incredibile, quindi comodità e libertà sono abbinate. Stare insieme a lui è anche molto piacevole, sì che va bene. C'è qualche momento quando magari lui va la paura così oppure no? Assolutamente no perché lui è incredibilmente tranquillo, rilassato anche nella guida ed è proprio il bello, altrimenti non avrebbe una moto di questo tipo. E quindi è molto molto piacevole stare con lui e stare con lui proprio che guida. Ci si gode il panorama, il paesaggio e il viaggio. Soprattutto mi sembra che la malattia l'abbia attaccata anche alla figlia che ci sta riprendendo, che non ricordo il nome. Esatto, Michela. Che anche lei oggi si ci mette con una moto leggermente più piccola, giusto? Esatto e tra l'altro il suo battesimo, quindi il battesimo è il primo motore ad uno, quindi siamo felici di accompagnarla con questa esperienza particolare. Ok, ci fa molto piacere, fate un buon giro perché dopo se non sbaglio dovete arrivare a Bugugiate, Bugugiate il posto dove poi si fa la mangiata per completare dopo un bel giro una bella mangiata. Il risotto è rosa, quindi bene così e buon giro a tutti, insomma, ma soprattutto attenzione alla prevenzione. E soprattutto attenzione alla ragazza che oggi ha l'esordio, quindi attenzione, state attenti quando passa lei. È bravissima, è bravissima, con un papà del genere non poteva venire fuori, scarsa, no no, assolutamente. Buon divertimento. Grazie. Buon divertimento. Grazie mille a te. Ciao. Grazie.